Vi racconto una cosa brevissima. Ho fatto un weekend a Londra, ho incontrato un mio caro nuovo compagno, un vecchio amico, che ha fatto tutto il percorso universitario, il dottorato, il postdoc. È finito a Londra, è a fare il ricercatore. Ha un laboratorio con tutto quello che serve, lavora per un salario molto notevole e dà una prospettiva futura. Un altro collega è all'Ecole Polytechnique a Parigi, se non sbaglio, e ha più o meno il suo percorso. Un altro in America, mia moglie, invece ha deciso semplicemente, siccome aveva avuto un'esperienza semplicemente italiana, di interromperla. Finita, perché oggi l'avete votata, questo tassello. È possibile ipotizzare un tassello successivo? È ragionevole pensare che sia anche lì di integrazione pubblico-privato per dare le risorse anche al nostro mondo della ricerca e avete già qualche idea, così, in coda.